cari pace pace del signore buona giornata dio benedica la vostra vita oggi grazie al signore 12 gennaio sono le 7 del mattino spero che siate tutti quanti bene spero che ancora in questa mattina possiamo avere un momento di comunione con nostro signore prima di iniziare la giornata in modo da poter caricare le nostre batterie spirituali sì perché il giorno che abbiamo davanti non sappiamo cosa ci possa riservare ma siamo certi che se invocheremo la guida e la protezione di dio il signore saprà preservare l'anima nostra da tutto ciò che la può allontanare dalla sua grazia e quindi dalla salvezza leggiamo nella parola del signore leggiamo nel vangelo di matteo al capitolo 16 leggeremo quattro versi dal verso 13 al verso 16 ed è un passo molto noto e gesù che si trovava nei dintorni di cesarea di filippo e domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo ed essi i discepoli risposero alcuni dicono giovanni il battista altri elia altri geremia o uno dei profeti ed egli disse loro e voi chi dite che io sia e simon pietro rispose tu sei il cristo il figlio dell'iddio vivente gesù fa una domanda ben precisa ai suoi discepoli chi dite che io sia e questo perché prima gli aveva chiesto qual era l'opinione che c'era intorno a lui nella gente che si incontravano e ognuno di quelli che avevano avuto occasione di incrociare cristo aveva un'opinione diversa riguardo a lui c'era chi pensava abbiamo letto che fosse giovanni battista che era tornato in vita altri che vedevano in lui l'elia che era stato promesso altri ancora che vedevano in lui geremia uno dei tanti profeti dell'antico testamento ma per i discepoli a cui poi viene fatta la domanda precisa per i discepoli questo uomo questo figlio di falegname era il cristo il messia che era stato promesso il figlio dell'iddio vivente e questa domanda che è stata posta ai discepoli in quel giorno è una domanda che stamattina torna di attualità per ognuno di noi anzi per me e per te che stai ascoltando per te chi è cristo chi è questo figlio di falegname che duemila anni fa circa ha dato la sua vita sulla croce ed è stato ucciso ma poi dopo tre giorni è risuscitato chi è è forse una religione da seguire è forse un buon esempio da provare a praticare chi è questo uomo è un filosofo dell'antichità che è stato capace con le sue idee di rivoluzionare il modo di pensare delle genti chi è questo personaggio particolare e io spero che tu possa dire la stessa cosa che i discepoli dissero egli è il figlio di dio ma non basta che egli sia riconosciuto come figlio di dio in generale è necessario che egli venga accettato nella propria vita come personale salvatore che egli diventi colui che riscatta l'anima nostra dal peccato che il suo sangue possa arrivare a lavare e purificare le nostre vite e quindi spero che tu possa dire insieme a me egli è il mio salvatore egli è colui che ho accettato nella mia vita per mezzo del quale ho chiesto perdono e attraverso il quale ho ricevuto la nuova nascita attraverso il quale sono stato trasformato perché per la fede che abbiamo in lui che noi possiamo ricevere vita eterna chi è cristo oggi gesù viene spesso visto come una sorta di amuleto lo si invoca soltanto nei momenti di difficoltà quando ormai non c'è nessuno di più in cui sperare ma dio ci dia grazia di vedere in lui colui che il nostro redentore colui che il nostro amico colui nel quale confidiamo nei giorni bui e nei giorni dove c'è invece la gioia della vita il signore ci dia grazia di vedere in lui colui a cui consacriamo la nostra vita il nostro talento il nostro tempo sì perché molti vedono in cristo una sorta di maggiordomo qualcuno che deve rispondere ai bisogni che deve servire ed è vero che egli è venuto per servire ma egli ha già servito ha dato la sua vita per la salvezza e ora siamo chiamati noi a servire lui siamo chiamati noi a donarci a lui perché egli ha già dato la sua vita per la nostra salvezza e mentre tanti si chiedono cosa potrebbero ricevere ancora di più da cristo e sono alla ricerca di nuovi doni e di nuovi benefici noi come cristiani vogliamo invece chiederci ogni giorno cosa possiamo dare al nostro salvatore e qual è l'occasione di servizio che si presenta davanti a noi sì perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere e noi vogliamo essere di quelli che danno la loro vita al signore che si consacrono ogni giorno di più al signore e che cercano in lui la ragione della propria vita sì il signore ci dia grazia di realizzare che cristo è molto più di quello che nel mondo si pensa egli è veramente il figlio di dio come disse il soldato romano egli è colui attraverso il quale noi possiamo avere vita e vita ad esuberanza come gesù stesso ha promesso sì gesù è qualcosa di più di quello che le religioni dipingono e noi vogliamo con tutto il cuore ringraziare dio perché attraverso la sua parola lo possiamo conoscere ogni giorno di più e vogliamo pregare che il nostro cuore si allarghi affinché possiamo arrivare ad abbracciare interamente il suo amore la larghezza la lunghezza l'altezza e la profondità dell'amore di dio e vogliamo anche chiedere che il signore ci dia forza di servirlo con integrità su questa terra perché lui è degno sì è degno di essere amato servito onorato prima di ogni cosa e sopra di ogni cosa cari che la grazia di dio e la pace del nostro signore gesù cristo ci possa accompagnare ancora durante questo giorno dio ci benedica insieme